Ehi Paco Ehi Sai che momento sia questo? No Il momento che aspettavano tutti Ovvero Noi che giochiamo a Overwatch Ah No non è vero Eh Nessuno ci voleva vedere giocare a Overwatch Yeee Allora sai noi cosa facciamo? Che cosa? Lo facciamo lo stesso Pezzi di merda Tempo stimato sconosciuto Perfetto Ah L'ha trovato ok niente Facciamo che non fotto più un cazzo a nessuno Perché ormai lo sappiamo tutti Esatto Allora Ragazzi Parliamoci un po' di cosa sta succedendo su Canals Allora Paco hai qualche dichiarazione da fare? A parte il fatto che l'università toglie molto tempo Che quindi manca anche la voglia Si Esatto proprio quello In breve visto che sono ricominciati gli impegni universitari Abbiamo molto meno tempo e voglia E sinceramente Questo non ci fa fare video E anche perché abbiamo un altro canale su Parabins Che sta crescendo piuttosto in fretta E le visualizzazioni sono tipo il quadro degli iscritti Così Cosa che qua non succede da tipo anni E quindi ci stiamo Prendendo un po' di tempo per pensare che cosa farne Di questo canale Poi Molti hanno fatto Molti Qualcuno ha fatto Una domanda anche piuttosto Ovvia Visto che ultimamente stiamo facendo tante live Ma questo canale diventato un canale di live? No No Semplicemente è un metodo molto più veloce per intrattenere Che editare tutto Anche perché contate che Non abbiamo tutto quel tempo che avevamo una volta Esatto O meno per il momento che Abbiamo tutta questa roba all'università Ci toccherà fare così Però vabbè Ci dobbiamo solo stabilizzare perché Per Paco è una cosa nuova Quindi deve anche sistemarsi Io invece quest'anno spero di laurearmi Quindi Capitemi Anzi capiteci Non stiamo qua a grattarci la pancia tutto il giorno E io non sto prendendo più un cazzo di niente Perché non ho la mira oggi Ma è schifo Sì lo so Ciao Paco Aspetta Ok Dormi Dai L'ho preso Si l'ho preso Però poi è scappato Ah ma devo anche curare Eh si Quando hai tempo nella vita Però stavo dicendo Che Per quanto riguarda le live Ehm Credo andremo avanti a farle Per un po' Finchè Riusciremo E soprattutto finchè non ci saremo appunto stabilizzati In realtà questa cosa ci sta servendo Perché La cosa delle live la stiamo tirando in ballo da un paio d'anni forse E semplicemente perché fra poco avrò anche il pc per supportare le live e quindi potrò E io forse ho una connessione al grado di farlo Appena riesco a risolvere il casino che ho fatto Che ho Con quella merda di Tiscali Vi prego non passate a Tiscali Fatelo per il vostro bene Comunque Al momento stiamo pensando di fare qualche live ogni tanto Per provare delle hack brutte Prima su Youtube E poi probabilmente passeremo a farlo direttamente su Twitch Un po' come fa Yotobi per capirci Esatto Magari carichiamo le clip sul canale Bravo Esatto Ci devo andare a bustare qui Beh Quando vuoi Vai Ehi la Sass Lo vuoi un po' di sassolo io e te Rodol Comunque Per quanto riguarda i video che ci saranno sul canale per questi tempi molto bui Paco deve finire Dragonstone appena poco No è vero Io teoricamente ho iniziato Twilight però vorrei farlo in live Perchè ho notato che E' una serie che si presta molto di più alla live che non al video normale Quindi Mecri è caduto ma porco Ripa è passata Si lo so lo stavo facendo Com'è avere lane bot soldier Aia Guarda come ho imparato a fare quickscope con Ana Quindi siccome Overwatch è la copia di Paladins Sarebbe una buona cosa imitare almeno le ulti Con gli urli quelli veri Paco sta passando un tizio Cazzo Eh ma c'eri tu lì che cazzo Me ne sono accorto dopo E stavano anche curando Andiamo 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 No Reapers dead No Per me è ancora in circolazione Soldier Porca troia Che è che arriva adesso? Mercy Arriva Ecco I miei servitori Oh il nano booster Ok Boostami Due Caspio sei? Ciao Paco O forse no Ah ok Yeah Siamo forti Anemia Tanto nessuno la vuole È un bel personaggio Lo so Ma nessuno vuole usarla Perché è una vecchia di merda No è perché Che schifo curare Oh no Buddy Qualcuno ha visto Buddy Qualcuno ha visto Buddy Salutiamo Buddy di Pokemon Next Ah è passata da me Manco l'ho notata E manco l'ho presa Ok vai Buongiorno E questo signori Era come rompere il gioco Non dovevo stare Mcree Solo in questa modalità Si esatto Per fare Una troppa kill È alta mattina Ci arriva? Si Si l'ho preso Non ci credo Ma la vai a cagare Oh minchia Paok Cosa? Giorno No None a scagliere la tua legge No No Oh minchia Tengo un portiere di Halloween Ah Se vuoi vedere che trovi dentro la skin di Anna si guarda stava fermo e sparava sai quello che penso si allora ho capito ho usato tu in my side no neanche non l'ho usato neanche che cosa ho appena visto appunto e ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao